28 maggio san germano di parigi dal libro del siracide facciamo ora l'elogio di uomini illustri dei padri nostri nelle loro generazioni di altri non sussiste memoria svanirono come se non fossero esistiti furono come se non fossero mai stati e così pure i loro figli dopo di loro questi invece furono uomini di fede e le loro opere giuste non sono dimenticate nella loro discendenza dimorano preziosa eredità i loro posteri la loro discendenza resta fedele alleanze e grazie loro anche i loro figli per sempre rimarrà la loro discendenza e la loro gloria non sarà offuscata il signore ama il suo popolo cantate al signore un canto nuovo la sua lode nell'assemblea dei fedeli gioisca israeli nel suo creatore esultino nel loro re i figli di sion il signore ama il suo popolo l'odino il suo nome con danze con tamburelli eccetera gli cantino inni il signore ama il suo popolo incorona i poveri di vittoria il signore ama il suo popolo esultino i fedeli nella gloria facciano festa sui loro giacigli le lodi di dio sulla loro bocca questo è un onore per tutti i suoi fedeli il signore ama il suo popolo dal vangelo secondo marco dopo essere stato acclamato dalla folla gesù entrò a gerusalemme nel tempio e dopo aver guardato ogni cosa attorno essendo ormai l'ora tarda uscì con i 12 verso betania la mattina seguente mentre uscivano da betania ebbe fame avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa ma quando vi giunse vicino non trovò altro che foglie non era infatti la stagione dei fichi rivolto all'albero disse nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti e i suoi discepoli lo dirono giunsero a gerusalemme entrato nel tempio si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel tempio rovesciò i tavoli dei campi monete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio e insegnava loro dicendo non sta forse scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni voi invece ne avete fatto un covo di ladri lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scrivi e cercavano il modo di farlo morire avevano infatti paura di lui perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento quando venne la sera uscirono fuori dalla città la mattina seguente passando videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici pietro si ricordò e gli disse maestro guarda l'albero di fichi che hai maledetto è seccato rispose loro gesù abbiate fede in dio in verità io vi dico se uno dicesse a questo monte levati e gettati nel mare senza dubitare in cuor suo ma credendo che quanto dice avviene ciò gli avverrà per questo vi dico tutto quello che chiederete nella preghiera abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà quando vi mettete a pregare se avete qualcosa contro qualcuno perdonate perché anche il padre vostro che nei cieli perdoni a voi le vostre colpe